Salve, oggi parliamo di eCampus, l'università perfetta per ogni esigenza, compresa la vostra. E lo facciamo con Matilde, studentessa di psicologia. Ciao. E poi c'è Andrea, che si era iscritta a giurisprudenza 20 anni fa e ha dato un solo esame. Ti hanno informato male, ne ho dati due. Quello per la patente non conta, comunque se hai poco tempo fai come lei. Sì, io ho un bimbo piccolo, ma posso studiare comodamente perché eCampus è un'università molto flessibile. Le lezioni sono sempre disponibili online e così puoi studiare dove e quando vuoi, sul tuo computer, sul tuo smartphone. Ok, ma gli esami, dove li do? Ci sono sedi in tutta Italia, scegli quella più comoda per te. E se mentre studio mi incaglio? All'università e eCampus è un tutor che ti segue e ti dà il giusto ritmo per studiare. Inoltre, puoi sempre contattare i docenti e gli altri studenti. Ah, ci scambiamo i numeri? Pensa a studiare. E voi che aspettate? Iscrivetevi! Potete scegliere tra 44 percorsi di laurea in base a un orientamento iniziale che tiene conto dei vostri obiettivi e delle opportunità di lavoro. Fate come... fate come Matilde. Per maggiori informazioni, visita il sito www.e-campus.edu.it o chiama il numero verde a 800 800 550.